...commenta la politica italiana, mi ricorda di quelli che entrano in discoteca e si lamentano della musica alta. Ma ho fatto una ragione, in Italia è così, la collezione piace a volume assondante. Anche se ci siete due da vigo che è urlante, niente, si sente solo... ...sù, sù, sù, a calma, sù, sù, dai, Marco, arrenditi, 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 Marco, oggi ti hanno arrestato... ...altro nome a Caserta. Sono implicati anche l'ex sindaco di Santa Maria Campo a vendere e il presidente del PD in campagna pare che agevolassero il clan dei casalesi. Due giorni fa, rispondendo a D'Amigo, Renzi aveva detto... ...basta con la politica subalterna ai magistrati. Ha ragione, giusto, ma perché la politica deve essere subalterna ai magistrati quando può essere subalterna ai casalesi? È una scelta, no? È rispettabilissima. E basta. Oh! E se poi non vanno bene i casalesi? Magari dopo facciamo la prova anche con i magistrati. Intanto lasciamo lavorare la camorra, no? E dai, Marco, su, apriamo ancora dei difettucci, ma come popolo siamo ancora uniti.